Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Claudio e in questo video vedremo 5 rapper italiani insultati dai giornalisti infatti in questo video di oggi vedremo appunto dei rapper che sono stati insultati dai giornalisti che poi è una cosa che capita spesso infatti i rapper italiani molto spesso vengono insultati dai giornalisti per i loro testi soprattutto come per esempio il caso di Sfere Basta che è stato insultato per i suoi testi infatti si dice che Sfere Basta inciti all'utilizzo delle droghe e proprio riguardo questo punto voglio sapere una vostra opinione riguardo a ciò infatti qui sotto nei commenti fatemi sapere se secondo voi Sfere Basta incita o meno all'utilizzo delle droghe ovviamente leggere e se secondo voi è giusto legalizzare le droghe leggere ovviamente sto parlando della cannabis sono davvero molto curioso quindi qui sotto nei commenti fatemi sapere una vostra opinione però mi sono dimenticato di chiedere qualcosa sì ragazzi infatti non ho chiesto i like per questo video per questo video cerchiamo di arrivare a 1600 like per una seconda parte quindi mi raccomando spolliciate a più che non posso non so se si può dire sta cosa ma credo di sì giusto per ricordare qua tengo ancora il vocabolario comunque mi raccomando lascia il like e adesso come sempre saluto i sei fortunati di oggi che sono Luigi Avella Leonardo Giacomelli OnesimBot comunque grande che ha diffuso il canale PXF Michele Russo e The Ninja Boss se anche voi siete salutati il prossimo video dovete solamente lasciare un bel like iscrivervi al canale attiva la campanella condividere questo video i vostri amici e commentare qui sotto con salutami una volta fatto ciò prima o poi verrete salutati vi ricordo che ogni giorno alle 17 una nuova top adesso direi di incominciare subito con questo video il primo rapper italiano che troviamo in questa classifica è proprio lui Sfera e Basta infatti il Trap King così si fa chiamare è stato uno dei rapper italiani se non proprio il rapper italiano più criticato del momento infatti dopo la tragedia di Corinaldo di cui io sono ancora dispiaciuto perché è una cosa bruttissima morire per andare a sentire il proprio idolo è proprio la cosa più brutta che possa succedere e quindi mi dispiace davvero tanto anche se per me la colpa della tragedia di Corinaldo è da attribuire all'organizzazione della serata e non al trapper poi non lo so ognuno pensa quello che vuole in ogni caso dopo appunto la tragedia di Corinaldo i giornalisti si sono scagliati pesantemente contro Sfera e Basta e addirittura due politici di cui non faccio nomi perché non voglio avere problemi hanno denunciato Sfera e Basta proprio per l'incitamento alle droghe leggere beh io non so cosa dire mi sembra un poco esagerato perché se proprio dobbiamo denunciare a sto punto denunciamo tutti i rapper perché molti rapper parlano appunto di droghe leggere ma in realtà parlano della propria vita e quindi le droghe leggere purtroppo fanno parte della realtà di alcune periferie italiane se non la maggior parte e secondo me i politici italiani invece di denunciare Sfera e Basta dovrebbero pensare più alle periferie cioè alla sicurezza delle periferie ed evitare che appunto i ragazzi stiano in strada e non penso che i ragazzi stiano in strada per colpa di Sfera e Basta casomai qui sotto nei commenti fate sapere una vostra opinione vi ricordo di lasciare like se siete nuovi iscrivetevi seguitemi anche su Instagram claudio da trattino basso official adesso invece troviamo Ultimo Ultimo diciamo non è proprio un rapper anche se molti giornali lo hanno classificato come tale e diciamo che il genere di Ultimo è il pop rap oddio non proprio in tutte le canzoni però comunque il pop rap già ci può stare comunque Ultimo durante Sanremo anche lui fu massacrato dai giornalisti infatti dopo che è arrivato secondo al festival di Sanremo ci sono state numerose polemiche appunto su questa cosa visto che Ultimo aveva avuto più voti dal televoto però la giuria aveva votato tutto per Mahmood e quindi diciamo si era capovolto il voto popolare diciamo che in questo caso io concordo con ciò che pensava Ultimo cioè colui che prende più voti è colui che dovrebbe vincere e quindi non dovrebbe essere una giuria che può essere anche facilmente influenzabile a decidere il vincitore in ogni caso comunque Ultimo fu tartazzato dai giornalisti adesso invece troviamo Achille Lauro la vera rock star di Sanremo infatti Achille Lauro è stato sicuramente il personaggio più discusso di questo Sanremo che c'è stato infatti lui da trapper si è presentato a Sanremo come una rock star con il suo brano Ross Royce che per l'appunto ad alcune persone è piaciuto molto mentre altre invece non l'hanno trovato di gradimento infatti lo hanno trovato come un insulto alla musica proprio la partecipazione di Achille Lauro che molti lo hanno anche paragonato a Young Signorino forse per i tatuaggi in faccia però in realtà sappiamo benissimo che Achille Lauro non è proprio a livelli Young Signorino anche perché cioè arrivare a livelli Young Signorino cioè ce ne vuole ma ce ne vuole tanto per arrivare a livelli Young Signorino e comunque Achille Lauro fu tartassato da strisce la notizia infatti ve lo ricorderete benissimo Staffelli che diede il tapiro d'oro ad Achille Lauro ed Achille Lauro rispose sei un tonno adesso invece troviamo Fedez anche lui fu tartassato dai giornalisti più che altro per il fatto delle views comprate infatti si crede che Fedez prima di diventare proprio famoso abbia comprato le visual su YouTube e questa notizia era stata riportata da vari giornali e ovviamente a Fedez non ha fatto piacere questa cosa io in ogni caso non so se si sia comprato le visual anche perché che ne posso sapere io però in ogni caso comunque è indubitabile che adesso Fedez sia cresciuto molto di popolarità anche perché tiene praticamente un sacco di followers su Instagram ma magari li avessi io mannaccia va bene comunque che cosa c'è da dire appunto che Fedez era stato tartassato dai giornalisti nel 2011 e comunque sono passati un bel po' di anni adesso invece troviamo Jamie Tights che si è scagliato contro i giornalisti dopo il concerto del primo maggio infatti durante il concerto del primo maggio prima di tutto c'è stato un fail esagerato sul nome di Jamie Tights proprio al telegiornale che al posto del suo nome Jamie Tights fu messo a sfera e basta e questo fece triggerare moltissimo Jamie Tights vediamo subito la clip in cui appunto c'è questo errore bene come avete visto comunque c'è stato questo errore epocale riguardo appunto il nome dell'artista che invece di Jamie Tights c'era a sfera e basta che poi non so come li hanno confusi perché sono totalmente diversi uno è pelato e uno c'è i capelli rossi cioè vabbè non so cosa dire cioè ragazzi sono proprio totalmente diversi comunque Jamie Tights si arrabbiò moltissimo per questo fatto e poi anche per il fatto che era stato descritto come un trapper e a lui non fa piacere essere descritto come un trapper anche perché lui non si definisce per appunto neanche un rapper neanche un trapper e non ho capito neanch'io che cosa fa a sto punto cioè io l'ho sempre classificato come un rapper poi non lo so vabbè ragazzi questo video finisce qui mi raccomando se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like che a 1600 like vi posso portare una seconda parte perché non è detto ed inoltre se siete nuovi iscrivetevi a questo canale anche perché ci vogliono solamente due secondi ed inoltre commentate qui sotto con salutami se volete essere salutati al prossimo video ed inoltre seguitemi anche su Instagram qui c'è il mio nome però appunto seguitemi perché arriveranno anche foto lo so che lo dico sempre però prima o poi arriveranno va bene noi ci becchiamo alla prossima top bella ciao